Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, è appena terminata la partita, la semifinale di ritorno che è finita con il risultato di 2-1. Juve in finale. C'è un ma grande quanto una casa, parliamo della partita, perché il risultato mi sta... Non mi sta neanche bene. Perché una Juve che non vince e non sa più vincere in trasferta contro una Lazio molto abbordabile, a mio parere, una Lazio non irresistibile. Una Lazio che secondo me non ha dimostrato di essere superiore in questa gara, tutt'altro. È andata in vantaggio di due gol, ma ragazzi, una squadra con un pelo in più di voglia e di organizzazione, con una Juve così, posso dire veloci, scarsa, passatemi il termine, da ogni punto di vista, tecnicamente, tatticamente, ci avrebbe fatto più male. Ci avrebbe fatto più male, per cui andiamo a giocarci questa finale giocando una partita horror. Ok? Cioè l'andata, te la sei giocata bene, questa partita qua è stata una partita horror. Brutta! Ma di un brutto, ragazzi, che da tanto che non ne ricordavo. Cioè questa è un'altra partita da aggiungere al manifesto horror di Allegri, dell'Allegri Bis, ragazzi. Io non voglio più vedere la Juve giocare in questa maniera, ragazzi. Non la voglio più vedere. È una Juve che non mi rappresenta tutto e per tutto. Cioè, guardiamo un po' il primo tempo. Abbiamo anche qualche buona occasione contro un Lazio, che ripeto, secondo me, oggi non è stata proprio irresistibile. È una squadra temibile, una squadra che ha quella voglia, quella cattiveria tale da poterci far male, da poterci mettere in grossa difficoltà. Ci siamo messi noi in difficoltà. Perché il primo gol è figlio di una marcatura assurda, assurda, di Alessandro. Anzi, sapete che fa Alessandro? Non solo non marca Tati Castellanos, che al dodicesimo svetta in aria come un airone e la insacca di testa, imprendibile per Perin. No, ma lo agevola anche quasi, facendo un po' di ponte con la schiena. Lo aiuta anche. Lo aiuta anche, ragazzi. È una roba incredibile. Alessandro, scelta di Allegri, messo là probabilmente per superare sto benedetto record di Nedved, ma in realtà non è un bel record. E guardate bene, che non voglio neanche insultare più di tanto Alessandro, come fanno in tanti. Non mi piace quel tipo di atteggiamento. Non insulterò mai Alessandro, perché per principio è un tesserato che... È scarso, però. È scarso. È la colpa di chi lo mette in campo, non è la colpa di Alessandro. Di fatto c'è alla fine che subiamo questo gol qua, mi aspetto la controffensiva della Juve. Dopo un possesso sterile, dopo un'assenza totale di organizzazione nella manovra dalla cintola in su, e dopo qualche azione dove secondo me Vlaovic oggi sbaglia parecchi golle. Cioè, oggi è un Vlaovic un po' più cinico, un po' più cattivo. Ah, secondo me due occasioni chiare. La prima al primo tempo e l'altra al secondo tempo. Quando si sposta, chiude troppo col destro ed esce di poco a lato. Sono state due occasioni grandi, quanto una casa forse la si poteva fare molto molto meglio. Chiesa, ragazzi, assente. Assente totale. Un giocatore che si sta intestardendo a far tutto di testa sua. Ha un modo di giocare che è poco corale. E lui, per le qualità che ha, secondo me potrebbe sfruttare i miei compagni. In qualche triangolazione. In qualche scarico in meno. Cioè, qualche scarico in più che dovrebbe fare e non fa. Cioè, ragazzi, Chiesa non sa fare un lavoro enorme a spalle alla porta. Ma dal momento in cui prende la palla. La cosa che può fare è scarica il compagno e attacca la profondità. Perché è imprendibile per la rapidità che ha. Invece no. Tende a girarsi, a voler fare un po' di testa sua. Abbiamo perso una mare di palloni. Oggi, nel primo tempo, ho visto anche un Bremer in grossa difficoltà. Ed è la seconda partita, eh. Dopo Shomuro, che lo ha messo in grossa difficoltà, ho visto anche oggi Bremer soffrire un po' Tati Castellanos. E secondo me Danilo a destra rende meglio che a sinistra. Questo è oggettivo. Credo che sia una roba facilmente visibile. Anche all'occhio meno attento dal punto di vista tattico, dalla difesa. Vedere Danilo a destra. Danilo a destra, secondo me, ti dà quel qualcosa in più. Che è mancato oggi? Tanto McKennie. Che è stato uno dei più positivi in tutta la stagione. Oggi, ragazzi, ha fatto pena. Male. Male. Locatelli ha fatto sempre la stessa partita. Ne carne, ne pesce. Rabbio un pelo meglio rispetto al solito. Sicuramente tanto meglio rispetto alla partita col Cagliari. Che quella cosa là era un pugno in un occhio. Però... Non siamo ancora all'altezza, ragazzi. Kostic. In un certo punto mi sono girato dai ragazzi in live su Twitch. Ma Kostic sta giocando? Non sta giocando? Si è assentato? È andato a fare una partita a carte col magazziniere? Non lo si sentiva proprio. Assente totale. Assente totale. Della partita Kostic. Cioè, c'è stato un po' al primo tempo. Poi desaparecido. Mi dicono che la madre si è in plaza De Maio a chiederne numi sul suo destino, ragazzi. Ma, cioè... Ora, scusate, la battuta è un po' beccele, effettivamente. Con tutto il rispetto perché effettivamente ha avuto una perdita simile. Era per sdrammatizzare una situazione che veramente... A livello di campo è orribile. Orribile. È il manifesto della Juve allegriana dal punto di vista dell'organizzazione al minuto 63 e 10. 63 e 30. Andatevela a rivedere. Andate al minuto 63 e 10 circa. C'è un'uscita della Juve dove in tre vanno tutti in avanti rispetto alla palla. La palla rimane indietro e parte un contropiede della Lazio. Centrocampo questa. Quello è il manifesto dell'organizzazione allegriana, invece. A livello di gioco, di costruzione, della manovra. Una squadra piatta che non fa movimento senza palla. Tutti vogliono la palla tra i piedi. Tutti sono fermi. Nessuno che si muove. Non c'è il senso del tempo e dello spazio. Il calcio, per me, ripeto, è un gioco di tempo e spazio. Oltre che di tecnica individuale. Per cui, quando una squadra è così piatta, è anche facile da tenere a bada. Al di là dell'individualità, al di là dei valori tecnici individuali. Oggi, ragazzi, è stata una partita di merda. Che noi, insomma, non portiamo a casa. L'abbiamo persa lo stesso. Però, io ripeto, abbiamo avuto la fortuna di trovare una Lazio che dal punto di vista complessivo, secondo me, ha fatto peggio di noi. O comunque non è stata all'altezza per ribaltare questa partita. Non meritava neanche di ribaltare questa partita, perché non ho visto la ferocia nei ragazzi di Tudor di voler prendere questa partita e portarla a casa bene. È una Lazio che si è in parte accontentata. Stanno messo peggio di noi in classifica. Tudor sta cercando di rianimare in questo momento i morti. Però è una squadra che, essenzialmente, ha delle difficoltà enormi. Enormi. E noi abbiamo perso in casa loro, per la seconda volta, giocando una partita da dimenticare. Io non voglio più essere rappresentato da una Juve simile. Io voglio essere orgoglioso di vedere la Juve. Guardate ieri quanto cavolo erano orgogliosi i tifosi del Bologna nel vedere la propria squadra adagiare le palle in testa a tutta la Roma. Cioè, io voglio tornare ad essere quello là. Cioè, io voglio tornare ad essere quel tifoso che se la ride del fatto che gli avversari non gli facciano i complimenti per le vittorie. Cioè, io voglio tornare a quel livello là. Voglio vedere la mia Juve. Voglio vedere un'impronta chiara, definita. Una squadra di gente che lotta dal primo all'ultimo minuto. Che fa un lavoro, che ci sacrifica per il compagno. Che si fa la corsa in più per recuperare palla. Che dal punto di vista dell'organizzazione si abbiano le idee chiare. Che ci siano scambi veloci. Che la trasmissione della palla sia più rapida. Manca tutto, ragazzi, a questa squadra. Siamo completamente scheletrici. Abbiamo un calcio scheletrico. Scheletrico. È un calcio scheletrico, questo qua di Allegri. Che non va più bene. Ma non si tratta di essere al passo coi tempi. Questa roba qua la mettete in qualsiasi parte, in qualsiasi collocazione, in un arco temporale medio-lungo di 30-40 anni. È una roba che non funziona. E poi mi dite, sì, ma la Juve Allegriana di principio è difensivista. Oh, raga, stiamo subendo gol ogni partita. Non sappiamo neanche più difendere. Con tutto il bene. Io ve l'ho detto che l'anno scorso, l'idillio tra Juve e Allegri, doveva finire. Doveva finire. Doveva finire. Quasi due anni siamo ancora qua a parlare delle stesse cose. Io, ragazzi, ve lo dico già. Quando finirà tutto con Allegri, che saremo qualificati, ovviamente, perché dobbiamo ottenere anche quell'obiettivo, al di là della finale, vada come vada, siamo comunque in Supercoppa, altra cosa da mettere in conto, altre partite, sta per una bottiglia su Twitch. Perché sarà la fine di un periodaccio, per me. La fine di un triennio terribile, di una tribolazione senza fine. Questo è quello che ho da dirvi. Detto ciò, va bene. Andiamoci a giocare questa finale, che sarà su 90 minuti, con la speranza di trovare anche una squadra molto più disponibile. Perché oggi la squadra mi ha fatto arrabbiare. Perché dopo il 2-0 abbiamo riniziato un po' a giocare. Abbiamo riniziato un po' a cercare qualche soluzione in più, offensiva, eccetera. Ma è una squadra, veramente, che ti fa venire la voglia di guardare la partita in maniera... nervosa. Oggi ero frustrato mentre guardavo la partita. E mi spiace per i ragazzi su Twitch. che hanno assistito con me alla partita e io ero lì a fare sempre i commenti negativi. Mi piacerebbe parlare di quanto cazzo siamo forti. Mi piacerebbe un sacco. Ma è veramente frustrante vedere questa Juve. È difficile tirare fuori dalle partite della Juve delle emozioni positive. C'è stata l'esplosione al gol. E poco altro. E anche qua le scelte di Allegri. Oh! Sto cazzo di tridente giochiamo meglio di quando siamo a due lì davanti. Giochiamo... Perché? Perché gli esteri si trovano meglio a giocare sull'esterno appunto del campo. Perché il riferimento per un esterno sarà sempre la linea laterale. E mai il vuoto e il campo dietro. Chiesa fa fatica a fare quel ruolo. Fa una fatica bestia. Cioè ogni volta che si vede la Juve ragazzi si ha la sensazione di aver perso 90 minuti della propria vita. per come giochiamo. Perché per come giochiamo basterebbe apparire veramente il televideo guardare quanto è finita e fine. Non c'è altro. Poi il televideo non c'è più. Diretta goal o one football queste app qua. ma se prima qualcuno lo diceva per Allegri prima almeno qualcosa si vede oh non si vede nulla ma nell'Allegri 1.0 eh nell'Allegri 2.0 non si è visto più nulla nebbia totale nebbione totale navigare a vista con la speranza di non sbattere il muso da nessuna parte. questo è questo è ciao belli sempre fino alla fine forza Juve